237 euro. Ma se lo preferisci alla visita a casa del consulente, potrei richiedere Bio Comfort e De Modus, dormirci su per 10 90 notti e solo allora cominciare a pagare con 12 piccole rate da 19,75 euro. E non è tutto perché oltre allo sconto, Marion ti permetterà di scegliere tra due bellissimi omaggi. Il primo è un elegante set notte, composto da due lenzuola, due federe per cuscini e la caldissima trapunta. Il secondo è l'utilissima roschiera ad alto spessore tognana. Non perdere la possibilità di assicurare a te e ai tuoi cari un posto sicuro su cui dormire. Soffri di russamento? Allora solleva la porzione testa, avrai dei grandi benefici. Sollevando la porzione piedi invece sarà il tuo sistema cardiocircolatorio a beneficiarne. 237 euro, 11,75 euro, comodissime rate da 19,75 euro per avere più comfort e De Modus, insieme a uno dei due omaggi che Marion ha selezionato per te. Chiama Marion, soluzioni per dormire. Quasi tutti hanno un conto corrente, ma oggi c'è chi ha controcorrente, il conto che ti ripara della scelta. Come? Con gli interessi. Qua sta la controcorrente, aprilo su controcorrente.it o e lì via la banca. E lì via la banca. Il parmigiano legiano per me è il territorio, la neve, le stancate, l'inverni freddi, l'alimentazione, il latte crudo, i tempi lunghi, il sapere di cadare, il parmigiano da sé. E' macchio, eh? E' un'azione scorretta, eccessi di tossine e perfino lo stretto possono alterare le sue normalità. Per depurare l'organismo, l'integratore alimentare Reu è l'ideale di scena di 12 erbe officinali, selezionate con passione, da alta natura, per cura di corretto. Eh? E' un ragazzino piangere. Dov'è andato? Dov'è andato? Dov'è andato sulla nave? E' il nostro unico ingrediente. Delivero presenta... Dov'è andato? Dov'è andato? Dov'è andato sulla nave? Dov'è andato? Delivero, tutto delicosto. Scari al forno, poi, che si fa? E' questo passoni? Passoni, ora frequenta il bar Join. Passoni. E' questo? E' meglio, perché a me non te lo percazzo. Sei con te, no? Penso a bo. Perché non pego io? Perché non pego io? Non pego il cazzo. Sì, sì. Sì, sì, sì. Pure Cesare non lo vedo più? Cesare lo vedo poco, com'è? Cesare de Laura? Lo vedo poco? Ma tocchi il virus, ma tocchi il virus. Ma vaffanculo. Ehm... 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 Ehm...